La mafia 2.0 si era infiltrata nel mondo delle scommesse online. Lo svela una complessa inchiesta della Direzione Nazionale Antimafia. 68 arresti in tutta Italia. Giacinto Pinto. Di notte via mare con i mitra spianati scatta così il blitz alla villa del boss a Catania degli agenti speciali della Guardia di Finanza, della Polizia e della DIA. 68 gli arresti in totale, le mani della mafia sui giochi online, scoperto un patto mafioso, una sorta di confederazione 2.0 tra criminali di regioni diverse. Per tre procure, Catania, Reggio Calabria e Bari, a spartirsi insieme la torta delle scommesse erano i clan catanesi, alcune indrine e le famiglie della mala pugliese. Nel corso delle conversazioni ambientali registrate, qui l'indice non ci serve più per sparare. Noi vogliamo persone che usano l'indice per battere sui computer e fare soldi attraverso il sistema informatico. Le mafie dunque mettono da parte le lupare e anche gli affari dei colletti bianchi e il web ora a portare milioni di euro sporchi. Imponendo le piattaforme delle scommesse controllavano così, in maniera diretta e indiretta, giocate per 4 miliardi e mezzo di euro, determinanti le dichiarazioni di un pentito. In mezzo a Europa il patrimonio accumulato veniva schermato attraverso fondazioni e società fittizie, un sistema per riciclare il denaro, sequestrati beni per un miliardo di euro.